Il Campobasso torna da Tolentino con un pareggio che risulta essere anche il risultato di giornata più giusto. Cudini opera una vera rivoluzione di formazione con Fabriani sulla fascia destra in difesa. Candelori che agisce come trequartista alle spalle degli attaccanti che sono Giambè ed Alessandro. Accomodato in panchina inizialmente Musetti mentre a centrocampo viene rispolverato dal primo minuto Tengorang. Siamo al terzo tiro fuori misura da parte di Alessandro così come al diciannovesimo c'è un tiro dalla distanza da parte di Brenci che non inquadra la porta. Al ventesimo pericoloso il Campobasso con il cross di Candelori che viene respinto cerca di agganciare proprio Tengorang. Il tiro da parte di Brenci termina sul palo sfortunata la squadra rosso-blu. Al trentacinquesimo c'è il gol del Tolentino che passa con un gran sinistro da parte di Di Domenico Antonio. Si tuffa Natale ma non può davvero nulla in vantaggio la squadra di Mosconi. Prima della fine del primo tempo c'è una conclusione innocua da parte di Giambè bloccata dal portiere di Casa Rossi. Con le immagini siamo nella ripresa dopo 28 secondi da Alessandro a Giambè che incrocia ma fuori. Siamo al settimo da Alessandro allo stesso Van Zan il quale viene spinto nell'area di rigore del Tolentino. E calcio di rigore la spinta è ricevuta da Laborie difensore di casa. Calcio di rigore di cui si incarica con una rincorsa molto lunga l'attaccante Alessandro che va a cogliere la traversa. Si rimane sull'1-0 in favore del Tolentino. Al sedicesimo da Alessandro a Candellori rovesciata fuori. Al ventiduesimo cross di Fabriani davvero molto bello ed avvitato. Stacco imperioso in area di rigore all'altezza del secondo palo da parte di Bontà che fissa il ponteggio sull'1-1. Campo basso che rimette le cose a posto e ha a disposizione più di 20 minuti per provare a vincere la partita. Al venticinquesimo da calcio d'angolo per il Campo basso si innesca un veloce contropiede di marca marchigiana da Di Domenico Antonio a Minnozzi che viene steso fuori area di rigore da parte di Fabriani difensore del Campo basso. Ne nasce un conciliabolo tra il direttore di gara e il suo assistente direttore di gara che in un primo momento aveva assegnato il calcio di rigore in favore del Tolentino. Decisione che poi viene revocata nel giro di qualche secondo. Calcio di punizione in favore della squadra di casa e cartellino rosso per Candelori si incarica della battuta della punizione Minnozzi che trova una grande respinta di Natale. Al trentunesimo da Musetti a Tengorang tiro davvero molto insidioso e grande respinta del portiere di Casarossi. Al trentaquattresimo Bontà anticipato sul più bello dal difensore del Tolentino Ruggeri quindi prima della conclusione mentre nelle battute finali di gara rovesciata in area di Labriola con parata molto reattiva di Natale sul fronte opposto al cinquantunesimo. Sul piede destro la palla del 2 a 1 Giampaolo ma c'è la presa del portiere Rossi per la recriminazione di tutta la panchina rosso-bluo e dei tifosi giunti a Tolentino. Il Campobasso colleziona quattro punti in tre partite ancora non riesce a decollare si prende questo punto in attesa che a Selvapiana domenica prossima arrivi la vastese.